L'appuntamento è per il primo novembre, la location l'ha annunciata. Il costo gratuito, come tutti gli eventi proposti dalla consulta giovani di Abbiategrasso. In città arriva Abbiate Paura, con la proiezione di rifacimento di Suspiria, la pellicola di Dario Argento rivisitata da Luca Guadagnino. Abbiate Paura, proiezione cinematografica di Halloween nasce da una sentita collaborazione tra la consulta giovani di Abbiategrasso, che nella stagione estiva ha saputo raccogliere grandi risultati con l'iniziativa del cinema al castello, e l'associazione culturale La Salamandra, composta anch'essa per lo più da giovani, che si è già contraddistinta nell'abbiatense per svariate iniziative in campo culturale e non solo. Questa proiezione prevederà il film Suspiria, del 2018, diretto da Luca Guadagnino. Un film che non vuole essere un semplice remake, ma un coraggioso omaggio ad uno dei grandi maestri dell'horror, qual è Dario Argento.